Sono Antonio e frequento l'IT Galileo Ferraris di Scampia. Le cose che contano di più nella vita per me sono leggere, giocare ai videogiochi e suonare il piano. Dell'alternanza scuola-lavoro l'argomento più interessante è stato quello della sicurezza informatica. Appunto c'è chi ci protegge creando firewall inespugnabili dai Blackhackers. Sono coloro che vendono i nostri dati al migliore offerente. Grazie al Project Work possiamo creare un nuovo metodo di pagamento. La mia idea principale è quella di creare un chip sotto pelle e appunto renda quasi impossibile il furto dei dati e appunto anche il furto del metodo di pagamento. Le caratteristiche che si devono avere per entrare nel mondo del lavoro sono una buona educazione, una competenza nel campo e affidabilità. Perché nessuno darebbe i suoi soldi a qualcuno che non sembra affidabile.